Siamo in pillole, flash news, ancora dubbi sui parcheggi interrati, dopo le ombre di cui vi abbiamo dato notizia, all'edizione di ieri emergono altre criticità sul cantiere per la realizzazione dei parcheggi interrati in via Fratelli Adinolfi. Ci piacerebbe sapere ad esempio perché il Comune, dopo aver tutelato i promissari acquirenti truffati, ammesso che fosse compito suo intervenire nella vicenda privata, non abbia fatto altrettanto per i commercianti i cui affari nella zona sono stati azzerati e c'è poi l'aspetto fiscale perché i promissari competeranno l'acquisto ad un prezzo inferiore a quello fissato in sede comunale, chi verserà le imposte per le somme non riscosse? Cambiamo argomento, c'è una transenna, una vera e propria inferriata in via chiusa del bosco a confine tra i comuni di Eboli e Battipaglia che da anni frena la circolazione nella zona, la transenna segnalerebbe lavori su un tratto di strada successivo, ma qui o i lavori sono sospesi oppure sono ultimati, allora perché la transenna da anni non viene rimossa? Allarme ambientale ed igienico sanitario nel centro storico, nella zona di via Marcancioni, residenti da tempo hanno segnalato la presenza di ratti alimentati dall'abbandono e dalla presenza di troppi rifiuti abbandonati per strada, nonostante le segnalazioni fino ad oggi nessuno è intervenuto. E' stato presentato ieri mattina il programma completo degli appuntamenti culturali presso il Museo dello Sbarco di Eboli, presenti i responsabili Marco Botta, Giuseppe Fresolone e Luigi Nobile. Il cartellone è già partito nei giorni scorsi con due iniziative e si protegerà fino ai prossimi giorni di gennaio 2015 con una fitta serie di iniziative culturali che spaziano dalla letteratura al cinema, dalla musica agli appuntamenti riservati a bambini e giovanissimi. È tutto, un cordiale saluto da Luciano Bruno e dalla redazione di Eboli in pillole. Ievolo, bella, sottastumante stella, distesa tra mare e terra, terra e terra. Cerro di campagna, fertile e montagna, dall'epitaffio a San Cosimo e San Giovanni. Mi aveva con i pensieri di Porto Ruano e scendendo via via senza lega in un mondo antico. Profumi e friarelli, panna spasa, ricorda bello quando stava a casa. Ma venendo a me in montagna di San Donato, quando salendo mi andava andando a un spettacolo mozzafiato. L'esplosione di colori, mare e cielo, brillando in casa giunata dentro questa barbaia, con la sola casa specchia d'intalonna, paese mio, io accostito sonno. Terra mia, anima mia, terra martoriata e bella, sono stata fortunata, già sonnata. Vita da vita mia, sonno incantato. Il tempo si è fermato, ha un'annataggio lassato. E come un amore perduto, ma tengo sto dormendo e nasco nuoto. Grazie. 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 Grazie.